Il patinaggio di velocità in Italia è una disciplina quanto mai in salute, lo dicono i risultati recenti come quelli ottenuti ai recenti europei di Francia, di fatto appena conclusi, che hanno visto la conquista di un titolo continentale con Michele Ravagli, Pesarese Doc, nello staff tecnico. Con orgoglio ti do ragione, perché comunque dal 17 al 23 di luglio si sono disputati a Valencia d'Agen, una settantina chilometri da Tolosa, i campionati europei di patinaggio di velocità. L'Italia si è presentata in gran forze, l'antagonista erano i padroni di casa della Francia, che ovviamente avevano strutturato tutta la rassegna per eccellere e gli abbiamo dato del filo da torcere portando a casa tanti titoli, abbiamo vinto l'europeo categoria lievi, l'europeo junior, abbiamo dominato nella velocità e abbiamo stradominato anche su strada. Quindi siamo tornati a casa con un bottino decisamente importante e io sono orgoglioso in quanto pesarese, in quanto preparatore atletico della nazionale di far parte di questo team. E questo è uno dei tuoi tanti impegni, perché poi c'è quello davvero H24 nel far crescere il patinaggio qui in città tra mille difficoltà. Assolutamente sì, il patinaggio è una disciplina ancora nuova per noi, perché comunque dagli anni 50 in cui c'erano le prime rotelle e si pattinava nel quad, nel famoso pattino A4, addirittura con le ruote di legno, poi diciamo il patinaggio non ha più avuto un seguito. Noi siamo l'unica realtà riconosciuta dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici della provincia di Pesaro Urbino e quindi tra tante difficoltà, ma tra tante promesse aspettative, portiamo avanti questo sogno. Questo sogno che chiaramente piano piano comincia a prendere contezza, a prendere corpo in virtù proprio sia del bacino giovanile, proprio domani partiremo per l'ultimo campionato italiano categoria ragazzi allievi a Martinsicuro, e sia anche, come abbiamo testimoniato, per l'alto livello sportivo che siamo in grado di sostenere dal punto di vista delle competenze tecniche. Ora serve uno step magari anche a livello di infrastrutture che attendete da tanto? Sì, lo attendiamo, è un po' la famosa manna dal cielo, l'impegno dell'assessore della Dora è straordinario, sta seguendo con interesse capillare questo progetto, questo progetto ha anche la firma della Federazione Italiana Sport Rotellistici in quanto a caratteristiche dell'impianto, sarà un impianto straordinariamente performante, capace anche di ospitare gare internazionali e quindi, visto mai che potremmo portare qualche rassegna di rilievo, Coppa Europa, gare internazionali, europei, anche mondiali, nella nostra città, nel nostro territorio, visto che comunque ci siamo già affacciati in termini di competenze. E in questo rimbalzo tra Pesola e la Nazionale torniamo appunto ai colori azzurri perché ci sono i mondiali in vista. Mondiali in vista tra cinque settimane, mondiali ad Altececcato, Montecchio Maggiore, Veneto, mondiali in casa, un mondiale in cui l'Italia si presenta davvero coriacea, avremo altre cinque settimane di lavoro pieno con i nostri talenti, lo staff di cui faccio parte è capitanato dal nostro commissario tecnico Massimiliano Presti, che ha avuto delle visioni straordinarie quest'anno delle collaborazioni addirittura con l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, con i quali sono stati fatti dei protocolli valutativi sulla forza e potenza degli atleti d'elite e quindi un filo diretto con i club che hanno feedback importanti su quello che sono i valori degli atleti monitorati nell'arco dell'anno. Quindi forza azzurri, molto yes!